Non puoi averle un giornale, avevi, sembravi l'isciacoloppio a qualche mese fa, ma poi la sembra l'altro dei cagli. Ti vuoi sbrigare, dai faccio... Scusa, hai da accendere? Non mi è cascata la sigaretta, fai... Scusa, hai da accendere? È un po' più veloce? Oh, grazie di Dio, Bonino! Non posso farvi la mia ultima somma? Dai, non c'è nessuno! Ah! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.